Dove devo andare per l'assegno di disoccupazione agricola? Questi fanno come gli pare, noi non abbiamo tutele. Al lavoro non ti dicono mai niente. Devi andare al sindacato. Mi hanno detto che non mi avevano versato i contributi. Mi hanno dato il foglio con le scadenze, ma io non ci capisco nulla. Più tutele. Più assistenza. Più servizi. Da quest'anno, se vai alla Fai CISL per richiedere l'indennità di disoccupazione agricola, grazie al patronato Inas CISL riceverai gratuitamente anche l'estratto conto contributivo Ips. Fai di più. Fai CISL. Il nostro modo di fare sindacato.